Questo è quello che mi ha fatto il gatto perché ho tentato inutilmente di spostarlo da là Perciò non lo sposterò E ciao a tutti ragazzi, sono Lou Renzo E se vi state chiedendo perché mi muovo poco con la sedia E che ho scoperto che si sta spaccando di sotto E rischio di cadere veramente in diretta stavolta Comunque sia raga, benvenuti, benvenuti su Fatbear's Fight Ok, oh mio Dio, questo gioco è tipo uscito da un anno Ma io non l'ho mai fatto semplicemente perché non saputo della sua esistenza Ma ho saputo della sua esistenza quando ho fatto il suo seguito Che io sono molto intelligente, no? Vado a fare il seguito senza fare quello che c'è prima Quindi ragazzi, tanti pollici in su perché oggi tenteremo di iniziare e di fare al meglio questo bellissimo gioco Già che ci siete iscriviti al canale per supportare i miei infarti insomma Allora, mettiamo new game anche perché continua Tu sei sicuro di voler continuare? Cioè mi prendi pure il c***o Insomma mi sta chiedendo se voglio morire male Sì, voglio morire male oggi Proprio c'ho questa voglia di morire male Ok, notte 1 Oh mio Dio, ma è praticamente FNAF 1 Cioè che cos'è? FNAF 1, davvero? Cos'è? 4, 5, 6, 6, un tesserino numerico FNAF 1 è mischiato a FNAF Sister Location Vabbè, intanto c'è una testa di Freddy Quanto sei bello, Freddy Quanto sei bello No, non l'hanno messo Cioè l'hanno messo qua Ma guardate, ha appena toccato questo Freddy si illumina gli occhi Non ti tocco più, non ti tocco più Hidrolisis 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 Come c***o si pronuncia? Oh, guardate qua Gli animatronics, porca di quella mia Mamma mia Oh, ma quante telecamere ci sono? No, no No, non è normale No Oh, yeah Cam è uno Due animatori che complementa a caso Tra cui un threadbare Uno springtrap Inversione nacht merissima Poi Uno B Una roba Chi è? Cos'è? Ma che cos'è sto gioco? No, no, no Basta Io non ci vuoi più giocare Già mi fa paura così Già 82% di batteria Ma non c'è il generatore? Generatori di correnti ne abbiamo Chopin Non ci credo Ma perché? Ma perché Chopin? Ma è uguale Guardate Guardatelo è uguale Ciao ti chiamerò Chopin Per questa nuova serie Il pop è questo Qua dentro Ok raga Niente di particolare Cioè sì Insomma È un miscuglio Tra Final F1 E Sister Location Ma Ci abbiamo Un bonbon Versione Spring Bonnie No Cioè No Cos'è? Ho tirato lo sciacquone del bagno Ma poi Già 66% Cioè già due del mattino 66% Mamma mia Io non so immaginare Cosa potrebbe accadere No quindi Spiegatemi un attimo Questo pull A che cacchio serve? Cosa succede? Perché c'è Chopin Che tra l'altro è pure fermo E qua Allora qua sono io Camera set Offline Perché ovviamente mi dicono Ehi senti tu Non ti mettiamo nella camera Sì di sinistra Perché tanto basta fare luce Grazie mille Va bene Ma cioè Chopin Ti puoi stare fermo Ti prego No raga No 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 Non va bene No no Non va bene Ah ma 9A No 9 Che cacchio No non mi potete Non vi potete No 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 3 del mattino Che cacchio Se ne frego Le 3 del mattino No nessuno deve venire qua Lui ti Ti ha veduto a casa vostra Oddio Oddio ho paura Fermi Fermi un attimo Che è Tatti là Qua non ci si batte nessuno 50% 4 del mattino Ce la facciamo A meno che non muoia Non c'è Però è qua davanti Cioè no Cioè se non c'è Poi è qua davanti Idrolisis Non so che cacca Tira l'acqua del bagno Ah ma Ah faccio piovere Ah ma faccio piovere davvero Non ha senso Ma è fatta al mente caldo Che uno per Per rinfrescarsi Deve tirare lo sciacquone 36% 5 del mattino Ciao ciao Carissima prima notte Non muoio 3 Per cui arrivo alle 6 del mattino Non voglio morire Non voglio morire Non voglio morire Non voglio morire Dai 6 del mattino Non voglio morire Non voglio morire Non voglio morire Oh finalmente Bellissimo Nuova serie Nuova danza della vittoria Ok forse non la faccio Cos'è? Già iniziamo Premi S per cantare C'è c'è Che cosa Che cosa si fa? Il primo show è ora finito Ti ringrazio E quindi lanza la vittoria Avanti mostri Fatevi sotto Che vi tiro lo sciacquone Comunque dai Devo ammettere Dobbiamo ammetterlo Raga Questo gioco Mi sta sorprendendo 89% in batteria Già al 9 del mattino Finalmente un gioco di FNAF Che è veloce Poi tipo arriviamo alle 5 del mattino E l'ultima ora di questo gioco Non finisce mai Però Finchè è così Ora Adesso voi mi dovete spiegare Chi cacchio è questo? Chi cacchio è questo? Ho capito Chopin Andiamo a vedere tutti gli animatori Se abbiamo Abbiamo animatori che non ci sono più Che sono andati a farsi fregare Grazie mille Io cerco di capire chi siete E voi vi muovete Ok abbiamo Un Spring Bonnie tipo Nightmare Un Fredburn Nightmare Una roba 2 Io ti chiamerò roba 2 Perché roba primo è questa Che se si muove Io tipo Mi ammazzo Me ne scappo raga Io giuro Mi ne scappo da questa stanza Appena prendo un jump Scappo Se scappo L'importante è non morire Allora così già Dobbiamo riuscire a capire un attimo Ecco Quindi appena sentiamo il rumore Di qualcuno che entra Nel condotto di ventilazione Devo chiudere qua Per non spiegare energia Non c'è bisogno Di fare quella roba Intanto 72% Due del mattino Ce la possiamo fare Chopin Tu stati là Fermo Roba 2 Stati là fermo Roba 1 Sei bravo Facciamo piovere un po' Ma io dico il creatore Quando va a creare I suoni di gioco Veramente Si è messo in bagno A tirare L'acqua del successo Ti ringrazio per queste perle di saggezza Grazie Cosa si muovono Sti robbi si muovono No no Ho capito che viene nei condotti Piovi Piove Ha funzionato Ha funzionato davvero Ha funzionato veramente Quattro del mattino Non ci credo Io giuro Io posso venire Felice Lurido Ma raga Posso morire felice Ma non è che Quelli che entrano nei condotti Sono i piccoletti Sapete che Potrebbe essere Che sono proprio i piccoletti Ad entrare dentro Quindi Abbiamo abbastanza Livello di batteria Per far rimanere Questa porta Sempre chiusa Per non rischiare Nulla Tanto Abbiamo il 50% Sono le 4 del mattino Quasi 5 Abbiamo quasi finito La notte Wow E non c'è il manco Bisogno della fascia Ma sono talmente bravo Nei giochi di FNAF Che la fascia Ce l'ho incorporata 36% 5 del mattino Abbiamo praticamente Finito la notte Contro le animatronics Se entro Se non entro Perché Chopin è là Fermo E mi fa paura Roba 2 Giuro sei bellissimo Lo devo ammettere Sei più bello di Ethan Lurito ti ho chiuso Sei del mattino Allora All the D To Dance E da quando è qua Foxy Balla Balla Foxy Balla Va Foxy Che va Ti prego No Oh no Ok Lo show 2 E ora Finito Con che sono Me lo sto dicendo Danza Della vittoria Raga Stavo tipo Stavo cercando La fascia Dei Mi chiede Femmela Troppo Oh mio Dio Non mi direi che l'ho persa L'ho per L'ho perduta Tanto la ritro Tanto la ritroverò Giuro che la ritroverò A costo di perdere anche questo game La ritroverò Tanto la ritroverò Tanto la ritroverò Di questo fantastico gioco Al prossimo episodio Ma che ragazzi Io direi che il video di oggi Lo posso anche terminare qua E' stato veramente carino E' carino questo gioco Devo ammetterlo Spero tanto che vi possa piacere Anche a voi Quindi ragazzi Fatemi vedere che mi piace Lasciate un tantissimi pollici in su E mi raccomando Vi invito ad iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto E seguitemi Su Instagram Detto questo Io e il mio gatto Che se ne è andato da me male Vi salutiamo E noi ci vediamo Ad un prossimo video E Ciao Ciao